Però vabbè. Amica, c'hai problemi con il vicinato? Un litigio, una ripicca, fanno rumore durante la notte? Grazie a un particolare brevetto, grattote diventa come un guanto. Allora te come fai? Te le fili? Papà si affianca la macchina del vicino di casa? Sì, tassita, fischietti, fai la vaga, così che la manna l'artezza della mortiera. Te passi, vieni, li fai tutta la caratterina. Eh vabbè, ma anche indietro, solo il davanti, davanti e indietro. Siamo scoperta con stare le trete notte, la cianni più. Dai, quanto vogliamo scommettere? Telespettatrice, amica, cognata, vicina di casa, vicina e lontana. Chissà quale sarà l'oggetto. Che cosa ti va a proporre oggi la tua amica Veronica? Un oggetto nuovo, innovativo, che non può mancare nelle tue case. Dice che è? Che è? E che è? Scolone, amico voi puchi. Scusi, scusi, cono senza accento, che è importante. Questo qua è tutto fuso, cotta a lei. Eh, sì, come no. Dice, ma che sono se ho inventato noi italiani? Sì, aspetta, aspetta. Saranno i tedeschi, come al solito. No, questo vi è da Spagna. Dice, ma non so quelli che mo fanno sposi di frosi. Ma no, senta. Questi tra il matrimonio e l'altro li sono inventati in scolò. Ma che c'entra? Dice, che ce fai con scolò? Ecco, che ce fai? A sapello. Ma com'è a sapello? Vabbè, andiamo a vedere, Luciano, bello, inquadrame. Allora, scolò, sposta. Ma quello si possono usare le mani, senta. Oh, vedi, sto schifo. Non lo vedi più. Poi, grazie a un particolare brevetto. Scolò, sposta e nasconde insieme. Oh, vedi, questo sta qua. E mo stai qua. Sì, questi hanno questi oggi. Te, spettatrice, amica, casalinga, che stai fa? Stai buttata sul divano? Ma fate, ma. Guarda a te. Oggi ci vogliamo ancora che guardammo lo specchio. Meglio, guardi. Guardi, non è una brutta idea. Bella, oggi la tua amica Veronica ti va a proporre un oggetto innovativo, tecnologico, elegante. Cos'è? Dice che è? Che è? Cucchio. Ma è un cucchiaio. Questa qua è tutta lega soffiata, gotta a legna. Sì, esatto. Diciamo, ma niente niente se lo siamo inventati noi italiani. No. No, questo è tedesco, come il papa, che quelli so' tosti, sa, te fanno riga dritta e finita la vacchia pure per voi. Ma cosa serve cucchio, scusi? Dice che ce fai fatti con cucchio? Eh, ma qualcosa so. Ma mangi la minestra, tipo, no? Luciano, bello, segui, ma andiamo a vedere il particolare. Andiamo a vedere il particolare. Cucchio, se vara. Ma non è adatto per la crostata. Sarebbe meglio un coltello. Schiaccia, che spettacolo. Che spettacolo. Bravassa. Bravassa. Da una parte all'altra. Amica, sei triste? Sei depresso perché sei grassa? Ma no. Sicura, la busta te fate? Senta, la vogliamo smettere. Ma tanto ormai tutti i sicili, ma quando i putti giù va a magna? Perché se prego ormai è nata così, dai. Mmm, conosco questo sapore di legato. Eh? È un couscous con formiche rosse del Madagascar. Magna, so proteine. Mmm, mortacci vostra.